siamo arrivati a rimini per la novantatresima adunata degli alpini che occhi che hai oggi belli sì i primi pezzi del nostro tendone io sembra che non faccio niente ma sto trasmettendo molta calma serenità senza di me sono freddo i nostri vicini di cavaso guardate benvenuto non posso muovermi da perché la colonna portante quest'anno a quanto pare non c'è la giovanina fai qua fai qua vieni vieni subito secondo lei un non alpino può mettere il cappello d'alpino non si fa se non sei alpino non si mette il cappello d'alpino a parte i bambini i bambini possono stasera festa grande gli esperti dello sfido lo stanno preparando arriveranno qui ospiti illustri viva 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 ha voluto mettere questo tavolo di bello no me l'hanno consigliato chi te l'ha consigliato? io il film si sta mettendo il tigiano ma che roba ragazzi mi vira tu sveglia sveglia buongiorno buongiorno grazie ci vediamo stasera ciao ciao quando arrivano i nostri? si parte sempre dagli alpini più lontani dalla città ospitante ok? per dare la possibilità a chi viene da lontano di partire presto poi ma che giunti per tornare a casa quindi noi che siamo del Veneto siamo ah vi mancheranno ore viva gli alpini sempre ora viva gli alpini 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 E' viva gli alpini! Contenti! È stata una bellissima esperienza anche questa volta Tutti bravi, tutti essenziali Soprattutto Giovannino Dove ha gioconiglia? Dove ha gioconiglia Nicola? Adesso ti faccio cucerini innamorati Io di te Sì Ah, è vero! Oh! Oh! Oh!